Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità in centro, oggi pomeriggio tra le 13 e le 17, manifestazione sindacale a Via Molise davanti al Ministero delle Imprese del Made in Italy, sotto il profilo della viabilità di vieti di sosta e possibili chiusure sulla stessa Via Molise e su Via di San Basilio. Questa notte tra le 22 e le 6, lavori e chiusure nel sottovia tra la Circonvallazione Ostiense e la Colombo. Sempre questa notte, ancora dalle 22 alle 6, per lavori di manutenzione nella Galleria Farnesina, Via del Foritalico sarà chiusa tra Viale di Tordiquinto e Largo Ferrari Squarto sulla carreggiata direzione Stadio Olimpico.